Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Con il video di oggi mi riprometto di svelarvi tutti i segreti del pannello Pathfinder. Ovviamente se il pannello Pathfinder non si trovasse in questa posizione con la vostra attuale configurazione potete andare a recuperarlo dentro nel menu finestra ed eccolo qui. Cominciamo subito con la prima opzione del menu Pathfinder. Se ci soffermiamo sopra il pulsante vedremo che questa opzione si chiama Unite, Unisci e c'è anche un'indicazione. Clicca con il tasto opzione per creare una forma composita. Andiamo a vedere a che cosa serve. Ci serviremo in particolare di questo cerchio di cui io andrò a creare delle copie tenendo premuto il tasto alto opzione. Nel momento in cui io seleziono entrambe le forme e vado a cliccare Unisci vedete che quello che abbiamo ottenuto è un gruppo che contiene entrambi i nostri livelli. Quindi sostanzialmente l'opzione Unisci ha unito due forme distinte all'interno di un unico livello. Ora io vado ad annullare l'azione che ho appena fatto. Vado a prendere una delle mie due forme e la trascino sopra alla seconda. A questo punto abbiamo questo primo cerchio che sta in cima e questo secondo cerchio che sta sotto. Se io li seleziono entrambi e vado nuovamente a premere Unite vedete che a questo punto è successa una cosa diversa perché il mio livello è diventato la somma di queste due forme. Quindi in buona sostanza l'opzione Unisci andrà a unire due forme che si toccano mentre andrà a unire all'interno di un gruppo forme che non hanno nessun tipo di contatto. La dimostrazione pratica è semplicemente questa. Vedete che in questo caso avevamo due forme che si toccavano sono diventate una forma unica e avevamo delle forme che non si toccavano sono state comunque racchiuse all'interno di un gruppo. Una cosa interessante che vi faccio vedere è che io ho la possibilità una volta selezionate queste due forme di andare a cliccare il tasto Unisci tenendo premuto il pulsante Alt opzione. A questo punto che cosa succede? Le mie forme sono diventate una forma unica ma lo sono diventate all'interno di un gruppo. Abbiamo infatti un gruppo che contiene le mie due forme originali. Questo è molto utile se si vuole lavorare in maniera non distruttiva proprio come gli oggetti avanzati di Photoshop. Nel momento per esempio in cui io volessi andare a creare una forma ad esempio una nuvoletta potrei andare a fare una cosa di questo tipo. Potrei andare a sistemare i miei cerchi in maniera tale da ottenere una forma che somiglia a una nuvola. A questo punto io potrei selezionare tutto quanto e potrei andare a premere Unite tenendo premuto il tasto opzione. Ecco che a questo punto io avrei un livello unico che contiene tutte quante le mie forme però è sostanzialmente un gruppo. Ovviamente lo stesso effetto avrei potuto ottenerlo semplicemente andando a selezionare tutte le mie forme in questa maniera e premendo Command G oppure Control G se state usando un pc. È esattamente la stessa cosa. Abbiamo ottenuto un gruppo che contiene tutte le nostre forme e possiamo spostarle tutte insieme. Ovviamente questo può essere annullato semplicemente prendendo i nostri oggetti e trasportandoli fuori dal gruppo oppure andando col tasto destro e cliccando Ungroup oppure cliccando da tastiera Command Shift G. Ecco che di nuovo abbiamo tutti i nostri cerchi separati. Quest'opzione ovviamente è la migliore se si vogliono creare forme semplici partendo dalle forme che abbiamo già a disposizione. Io per esempio potrei andare a creare un cuore utilizzando queste tre semplici forme. Ora una cosa importante che ho dimenticato di dirvi è che la forma che sta in cima determinerà il colore delle altre. Per cui nel momento in cui io dovessi decidere che questo è il colore della forma che sta in cima delle mie tre come potete vedere il quadrato è quello più in alto rispetto a questi due cerchi. Nel momento in cui io andrò a posizionare i miei cerchi per andare a formare il mio cuore andrò a selezionare tutto quanto e andrò a dirgli unisci vedete che il mio cuore prenderà il colore del livello che stava più in alto. A questo punto io posso ruotarlo ed ecco qui il mio cuore. Quello che mi preme che vi sia chiaro è che il livello in cima determinerà il colore degli altri due e questo funzionerà anche se andiamo a selezionare unite tenendo premuto il tasto alt. Vedete infatti che anche se abbiamo creato un gruppo esattamente come avremmo potuto fare semplicemente raggruppando gli elementi in questo caso tutti gli elementi hanno preso il colore dell'elemento più in alto. Bene procediamo e passiamo alla seconda opzione che come vedete si chiama minus front. Come qualcuno avrà già intuito questa opzione funziona in maniera molto simile a quella che abbiamo appena visto ma invece di unire andrà a sottrarre. Ora è importante notare come nel momento in cui abbiamo due forme che non si toccano e io andrò a sottrarre una delle due ovviamente ne rimarrà soltanto una. Ora darò a una delle due un colore diverso così ci sarà molto più chiaro capire quello che sta succedendo. Vedete innanzitutto che se io vado a selezionarle entrambe e vado a premere minus front ci rendiamo subito conto che una delle due forme scompare completamente perché le due forme non avevano nessun punto di contatto. Nel momento in cui viceversa le due forme hanno una parte sovrapposta io vado a selezionarle entrambe vado a premere minus front vedete che quello che succede è che la parte sopra è stata sottratta dalla parte sotto. Come potete vedere la parte scura stava in cima in questo caso la parte sopra è stata sottratta dalla parte che stava sotto quindi c'è rimasta solamente questa mezzaluna. Ovviamente anche quest'opzione funziona con il tasto option o alt quindi io posso andare a ottenere la stessa cosa però mantenendo anche il mio cerchio originale e quindi posso disfare quello che ho fatto. Mentre se io vado a farlo senza tenere premuto il tasto alt la mia modifica sarà permanente nel senso che una volta che vado a compiere altre azioni e non posso più tornare indietro facendo ctrl z questa qui rimarrà la mia forma definitiva e non potrò più recuperare la parte mancante del cerchio. In questo caso come potete notare nel momento in cui io le seleziono entrambe e vado a dirgli minus front rimarrà la parte che stava sotto e manterrà il proprio colore. Se io andassi a fare l'opposto ovvero andassi a portare la parte scura sotto e nuovamente gli dicessi minus front ecco che nuovamente la parte che stava sotto viene ritagliata e mantiene il suo colore. L'opzione minus front del nostro pathfinder risulta particolarmente utile se vogliamo per esempio realizzare dei bottoni forati. Vedete che nel momento in cui io vado a creare queste due forme vado a sovrapporle vado a selezionarle entrambe e vado a dirgli minus front vedete che ho ottenuto un bottone che è forato nel senso che io attraverso questo triangolo vedo quello che c'è sotto sul mio sfondo quindi questo può essere particolarmente utile se vogliamo creare dei bottoni che poi devono essere esportati in formato png o comunque mantenendo una trasparenza. Vi faccio vedere che il pulsante minus front funziona anche se stiamo posizionando più di un elemento infatti adesso vado a fare il pulsante di still quello della pausa vado a posizionare due elementi sopra il mio cerchio vado a premere minus front come potete vedere ho ottenuto quello che volevo quindi si riesce anche a sommare più oggetti che devono essere sottratti dalla mia forma sottostante. Ovviamente soprattutto in questi casi io consiglio di premere il tasto opzione in maniera tale da ritrovarsi con un gruppo di questo tipo che contiene la mia forma originale più le mie due stanghette in questo modo se ho sbagliato qualcosa sarò ancora in grado di posizionare le mie stanghette e andare a rifinire la mia forma cosa che non sarei in grado di fare se invece andassi semplicemente a premere il bottone minus front senza tenere premuto il tasto alto opzione. È il momento di passare alla modalità intersezione come dice il nome stesso questa modalità andrà a intercettare le parti di forma che sono in comune tra un oggetto e un altro. Va da sé quindi che se io vado a selezionare due oggetti che non si toccano e vado a selezionare l'opzione intersezione mi verrà fuori un messaggio che mi dice di selezionare due tracciati sovrapposti. In questo caso non lo sono e quindi mi esce un messaggio di errore. Adesso andiamo a sovrapporre questi due tracciati in maniera tale che abbiano qualcosa in comune e quindi questa parte centrale sarà quella che rimarrà quando io avrò premuto il mio tasto intersezione. Infatti come vedete ho ottenuto questa bella fogliolina. Ora nel momento in cui io andassi a colorare una delle due forme vedete che in questo caso ho colorato la forma che sta sopra ovviamente la mia fogliolina prende il colore della forma che sta sopra. Se invece io andassi a prendere questa forma e a portarla sotto vedete che adesso la forma che sta sopra è quella più chiara e quindi la mia intersezione prenderebbe il colore sempre di quella che sta sopra. Ovviamente questo vale anche se io vado a tenere premuto il tasto opzione quando vado a cliccare. Quindi vale sia con un colore sia se io l'inverto vale sempre la stessa cosa. Il colore che sta in cima sarà quello che determinerà il colore dell'intersezione rimanente. Procediamo verso la fine della prima riga di opzioni e abbiamo l'opzione escludi. Ovviamente in questo caso se io vado a sovrapporre due forme avrò la loro intersezione che viene completamente cancellata. Di nuovo se io vado a selezionare due oggetti che non si toccano e seleziono quest'opzione le due forme verranno raggruppate proprio come se stessimo usando unisci. È un gruppo normalissimo per cui può essere eliminato semplicemente prendendo i due elementi e trascinandoli al di fuori di esso. Nel momento in cui però io ho due forme che si toccano quindi due forme sovrapposte le vado a selezionare entrambe e vado a premere escludi vedete che quello che ho ottenuto è che l'intersezione è stata cancellata. In questo caso come vedete viene creato un gruppo che contiene le mie due forme. Questo gruppo come vi dicevo prima può essere eliminato semplicemente trascinando fuori i due elementi e quindi io mi ritrovo con le mie due mezzelune separate e completamente indipendenti. Nel caso in cui invece io non sia sicuro della mia scelta e voglio tenermi aperta ogni possibilità vado a utilizzare il tasto alto option. In questo modo avrò un gruppo con all'interno le mie due forme ma la nostra intersezione sarà ancora modificabile. Infatti vedete che in questo caso io posso spostare i miei due cerchi che vanno a sottrarsi nel momento in cui si toccano però entrambi i cerchi sono ancora intatti e completi. Andiamo a vedere che cosa succede se cambiamo il colore a uno dei due cerchi. In questo caso ho cambiato il colore al cerchio che sta sotto. Andiamo a utilizzare la nostra opzione e vedete che ha immediatamente preso il colore di quello che stava sopra. Proviamo ad andare a scambiarli e vedremo che quello che succederà sarà esattamente la stessa cosa. Questa volta tengo anche premuto alto option e vedete che immediatamente tutto quanto ha preso le caratteristiche del cerchio che stava sopra. Siamo approdati alla seconda riga e qui troviamo per prima l'opzione divide, dividi, che è una delle mie preferite perché quello che va a fare, ve lo faccio vedere immediatamente, andiamo a creare due forme e una delle due la coloriamo in modo diverso come già visto. Andiamo a selezionare le nostre due forme e andiamo a selezionare divide. Come potrete notare in questo caso non è più possibile tenere premuto il tasto alto option per avere la possibilità di cambiare idea anche in seguito trasformando il tutto in un gruppo. In questo caso la modifica sarà permanente. Andiamo quindi a premere il nostro bottone divide. Vedete che quello che è successo è che abbiamo ottenuto un gruppo all'interno del quale abbiamo i pezzi della nostra composizione. Quindi nel momento in cui andiamo a tirare fuori i nostri pezzi dal gruppo vedremo che abbiamo il nostro cerchio che stava sopra che però è scomposto in due pezzi. Avremo la nostra parte in comune che è rimasta del colore del livello che stava sopra e abbiamo la nostra parte che stava sotto che in questo caso risulta privata di un pezzo. Quindi abbiamo i nostri tracciati scomposti in forme indipendenti. Questo è molto bello perché è possibile farlo anche su dei progetti molto complessi. Adesso vado a creare qualcosa di assolutamente improbabile. Vado a colorarlo in maniera assolutamente improbabile e dopo andiamo a vedere se riusciamo a ottenere un effetto simile da queste forme prese completamente a casaccio. Io vado a selezionarle tutte e vado a premere divide. A questo punto vado con il tasto destro a dirgli di eliminare il gruppo e vedete che a questo punto ogni singolo pezzettino della mia composizione è ora un livello a se stante. Quindi ogni singola intersezione ha dato luogo alla creazione di un livello completamente nuovo e scorporato da tutti gli altri. Questo può disorientare ma vi assicuro che diventa estremamente utile nel momento in cui volete creare qualcosa di questo tipo. Prendiamo per esempio un cerchio andiamo a fare esattamente questa cosa e andiamo a dirgli dividi. A questo punto eliminiamo il nostro gruppo ed ecco che abbiamo ottenuto quello che potrebbe tranquillamente essere il loghettino o il simbolino di qualcosa. Possiamo andare a farlo con diverse forme e otterremo qualcosa di assolutamente similare. Non solo ma io adesso vado a farlo di nuovo e quindi quello che ottengo è che posso andare a cancellare questo pezzo ottenendo qualcosa di questo tipo. Insomma le applicazioni della modalità dividi sono veramente infinite. Aspetterà adesso a voi andare a scoprire qual è quella che vi piace di più e quando l'avrete scoperto ovviamente vi aspetto nei commenti per farmelo sapere. Bene congratulazioni perché siamo sostanzialmente arrivati al termine nel senso che queste altre opzioni io vi consiglio di lasciarle abbastanza perdere nel senso che fanno delle cose anche loro però non sono particolarmente utili. Andiamo a vederle ugualmente ma io vi consiglio di utilizzare solamente le prime cinque. Andiamo a procedere con l'opzione trim. Nel momento in cui io prendo le mie due forme, ovviamente le sovrappongo, andiamo a colorarne una delle due in maniera diversa così come sempre ci rendiamo conto di quello che succede, le selezioniamo tutte e due e andiamo a dirgli trim. Ci rendiamo conto se andiamo ad aprire il gruppo che le nostre due forme sono più o meno come prima solamente che quella che stava sotto risulta mancante della parte che prima era sovrapposta. Quindi sostanzialmente la parte coperta della forma che stava sotto è stata eliminata e le due forme risultano attualmente all'interno di un gruppo. Quindi è possibile andare a sgrupparle e poi utilizzarle in maniera indipendente. Questo può essere utile in certi casi anche se normalmente una cosa del genere io la ottengo in altri modi e in maniera molto più rapida. Quindi ve lo dico giusto perché lo sappiate. È un'opzione che secondo me non utilizzerete molto spesso. Ora la nostra prossima opzione si chiama Merge e si comporta in maniera strana perché ha a che fare con i colori dei nostri livelli e con i colori delle loro tracce. Andiamo a vedere che cosa succede nel momento in cui andiamo a lavorare su due forme che hanno lo stesso colore e una traccia diversa. Come potete vedere sono rimaste unite e la traccia è scomparsa. Andiamo adesso a vedere che cosa succede quando lavoriamo invece con due forme che hanno due colori diversi ma la traccia dello stesso colore. Come potete vedere in questo caso si è comportato in maniera diversa. Nel primo caso è diventata una forma unica e la traccia è sparita. In questo caso la traccia è comunque sparita però le due forme sono rimaste indipendenti e separate. Continuiamo nella nostra rassegna e troviamo come vedete l'opzione crop. Come è facile intuire dal disegnino che comunque ci guida quest'opzione andrà a mantenere la forma che sta sopra e andrà a escludere quella che sta sotto ma andiamo a colorarle in due modi diversi così ci rendiamo conto di come andrà a farlo. Io vado a selezionare entrambe le forme e guardate che cosa succede. Ci rendiamo infatti conto che è stato creato un gruppo e al suo interno troviamo sostanzialmente quello che ci serve per ricomporre interamente la forma iniziale però abbiamo solamente un pezzettino visibile e questo dipende da come avevamo posizionato inizialmente le forme. Andiamo a fare un altro esempio in maniera tale che si capisca meglio. Se io vado a prendere due forme di questo tipo vado a posizionarle una sopra l'altra e vado a premere crop vedrete che quello che succede è che otterrò di nuovo un gruppo che conterrà la mia forma iniziale ma sarà visibile solamente la forma che stava sotto. Quindi di nuovo è un'opzione abbastanza strana che alla fine ci restituisce un risultato che comprende un gruppo. È un'opzione che io non saprei bene quando consigliarvi di usare. Tuttavia è bene sapere che quest'opzione è qui e all'occorrenza possiamo anche servircene. Procediamo con un'opzione che invece mi piace abbastanza perché l'opzione outline ci consente di trasformare le nostre forme in semplici outline che è una cosa che può sempre tornare utile. Quindi nel momento in cui io vado a selezionare le mie due forme e vado a dirgli outline vedete che quello che è successo andiamo ad aumentare un pochino la nostra traccia così ci rendiamo conto. Quello che è successo è che nuovamente abbiamo un gruppo e all'interno di questo gruppo abbiamo ogni singola riga separata su un livello a se stante. Questo può essere molto utile perché capita spesso di dover scomporre le nostre forme in qualcosa di più elementare e l'opzione outline ci consente di farlo su più forme contemporaneamente annullando quello che è il riempimento e mantenendo solo la traccia. Quindi questa è un'opzione assolutamente interessante. Ovviamente il gruppo può essere annullato semplicemente premendo command shift g e qui ci ritroviamo con tutte le tracce separate ognuna sul suo livello. Terminiamo con l'ultima opzione che andiamo a disposizione che è minus back che vi dovrebbe ricordare qualcosa perché qui abbiamo minus front e qui abbiamo minus back. Fondamentalmente sono fratelli nel senso che andiamo a prendere due forme e coloriamone una. Vi ricordate cosa succedeva nel momento in cui andavamo a utilizzare minus front? Succedeva che andavamo a sottrarre la forma che stava sopra e ci rimaneva solamente la parte visibile della forma che stava sotto. Se esattamente alla stessa composizione noi andiamo a dire invece minus back avremo esattamente l'opposto ovvero la parte che sta sopra rimarrà visibile solamente nelle aree che non coincidono con la forma che sta sotto. Di nuovo questa è un'opzione che non so quanto spesso andremo a utilizzare e vi dirò che spesso e volentieri a me capita per pigrizia e per abitudine di andare semplicemente a premere divide e poi andare a cancellare la parte che non voglio. Lo trovo più pratico tutto sommato perché mi consente di dovermi ricordare meno cose però questo dipende dall'attitudine di ciascuno e dipende soprattutto dal risultato che volete ottenere. Bene che dire amici sono felice che abbiate seguito fin qui questo video a questo punto sarete diventati dei veri esperti del pannello Pathfinder ovvero l'elaborazione tracciati all'interno del nostro illustrator. A questo punto io vi invito a seguire questo canale e attivare anche la campanella in maniera tale che quando usciranno dei nuovi contenuti dedicati a questo o altri software rimarrete sempre al passo e non ve ne perderete neanche uno. Mettete anche un like a questo video perché sono sicuro che se l'avete seguito fin qui avete imparato qualcosa che vi sarà molto utile nei lavori che andrete a fare successivamente. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.